Buongiorno, ben trovati. Match dei meno uno Bologna-Shaktar Donetsk, conferenza della vigilia. Con noi Mr. Vincenzo Italiano, Riccardo Orsolini e Lorenzo De Silvestri. Prego, Mr. Buongiorno, buongiorno a tutti. Solamente per presentare in questa prima nostra conferenza Champions il braccio destro Lollo De Silvestri, il braccio sinistro Riccardo Orsolini, rispettivamente il leader e il senatore, il capo branco di questa squadra, io l'ho definito così, ed era inevitabile averlo oggi in questa prima conferenza. E poi Riccardo Orsolini, che sono convinto inizierà ancora una volta a trascinare questa squadra. Ed è giusto anche lui, per quello che è stato fatto lo scorso anno, rappresentare anche i suoi compagni per la grande cavalcata che sono stati i protagonisti. Quindi, grande orgoglio da parte nostra, grande curiosità e voglia di affrontare in maniera davvero convinta questa nostra missione, questo nostro cammino, iniziando domani da una partita tosta contro una squadra difficile, ma in casa siamo convinti che possiamo giocarci le nostre chance. Buongiorno a tutti e buon cammino, buona strada. Allora, chiedo subito a Vincenzo, ma una domanda per tutti e tre ovviamente. È bello vedere così. È un senso di unione, siete una cosa sola. C'è bisogno per questa partenza di unione, unione ai sentimenti, un aiutarsi l'un l'altro. Credo che si debba tramutare anche in cose concrete fatte sul campo. E questa è una delle cose che vuoi vedere anche dopo Como. No, mi piace che sia apprezzato da parte tua questo. È quello che è il messaggio che vogliamo mandare, perché tutti insieme, l'uno per tutti, tutti per uno, deve essere ovunque, ovunque. Quando saliamo sul pullman, quando scendiamo, quando siamo a cena, a colazione, a pranzo. E soprattutto in questo momento, dove andremo ad affrontare squadre che sulla carta sembrano tutte superiori a noi, squadre che cercheremo di mettere in grande difficoltà, perché secondo me, continuando a lavorare, continuando ad applicarci, a crescere, a migliorare, dove dobbiamo migliorare, sono convinto che tutte quelle che abbiamo nel nostro cammino, nel nostro girone, le possiamo mettere in difficoltà. Iniziando da domani, dove in casa, analizzando anche insieme ai ragazzi, le due prestazioni che abbiamo fatto qui al Dallara sono state due prestazioni ottime. Dobbiamo continuare a rimarcarle, perché sono due prestazioni dove abbiamo fatto bene quando avevamo la palla, concesso poco all'avversario, però lontano da queste mura qui non siamo stati bravi a ripetere queste prestazioni. Quindi domani siamo nel nostro stadio, insieme al nostro pubblico, giochiamo in casa e dobbiamo farci rispettare. Ciao Vincenzo, una domanda chiaramente con tutti distingo del caso, visto che parliamo di latitudini diverse, però tu hai già giocato due finali europee, per sensazioni, per emozioni della vigilia, anche per aspettative alte, se questa, al netto del fatto che poi mancheranno altre almeno sette partite, ti ricorda le emozioni di una finale? Si può vivere come una finale? Poi volevo chiedere invece a Lollo e a Riccardo, che hanno un po' il termometro del gruppo, come hanno visto la squadra in questi due giorni, soprattutto dopo Como, se hanno visto la cattiveria giusta? Sì, devo dirti che anche da parte mia, come dice Orso, c'è una grande emozione di fronte a una delle competizioni, alla competizione in Europa la più prestigiosa, la più seguita, la più bella, quindi grande emozione. Ho avuto la possibilità in questi due anni precedenti di essere protagonista di un percorso, poi terminato con due finali, sono andati male, ma quello che mi viene sempre in mente è il percorso, è un percorso europeo, un percorso che ti fa crescere, ti forma, ti dà grandi spunti per continuare a lavorare, a migliorare, affronti realtà importantissime, sarà così, ne ho parlato anche con i ragazzi, quindi grande emozione per tutto quello che si andrà a vivere domani, grande emozione per questo percorso, cammino andremo in stadi gloriosi contro avversarie che in Europa adesso, ma anche in precedenza, hanno dettato legge, quindi sarà un percorso bellissimo, emozionante, da vivere, davvero con grandissimo orgoglio, non vogliamo fare le comparse come diceva Nosso, ma vogliamo cercare di mettere in difficoltà tutti, attraverso quello che cercheremo di preparare, le strategie ogni partita, partita dopo partita, ogni singola gara, contro ogni singolo avversario, cercheremo di dare il nostro meglio. Buonasera, allora mister, qual è il reale obiettivo in questa Champions League per il Bologna? Lei viene, come appena detto, da due finali europee, però il livello si alza notevolmente. Il livello è alto, a partire dall'avversario che affronteremo domani, un avversario abituato a queste competizioni, lo fa da una vita, è un avversario che sicuramente per esperienza ci sta davanti, però in casa, in questo nuovo format della Champions, hai la possibilità di quattro partite in casa e quattro fuori, e soprattutto in casa devi far vedere quello che vali. Certo che anche fuori si andrà a battagliare, a sudare, a andare forte, ma qui domani dobbiamo iniziare, avendo la possibilità di cominciare questo girone in casa, di farci trovare pronti all'altezza della situazione. Livello altissimo, squadroni, questa è la verità, ambienti caldissimi, squadre forti dal punto di vista tattico, tecnico, individuale, ci dobbiamo far trovare pronti e ci stiamo lavorando per questo. A Orsolini volevo chiedere se questo palcoscenico eccezionale può essere il definitivo trampolino di lancio per la sua carriera, che già promette molto bene. Non lo so, sicuramente c'è una diversa visibilità da quel punto di vista, ma penso che non sia un problema personale di Orsolini, ma deve essere un'occasione per tutti di dimostrare che il Bologna, non Orsolini, può dire la sua in questa competizione. Io spero di dare il mio contributo, darò tutto me stesso per aiutare i miei compagni a cercare di centrare un obiettivo già storico, ma ancora di più se riuscissimo a fare qualche punticino che ci permetterebbe di entrare almeno nei play-off. Il Ministro volevo chiedere se la Champions League, questa partita di Champions League, dopo un avvio difficoltoso per il Bologna, può essere, visti anche gli ultimi 20 minuti di Como, può seguire quella scintilla finale che si è vista a Como e quindi dare una svolta positiva, un inizio positivo per la stagione del Bologna. Penso che, l'ho detto anche a fine gara a Como, essendo un percorso nuovo, è un percorso nato da pochissimo tempo, siamo obbligati a trarre degli spunti positivi e vedere tutto ciò che ti può far crescere. Quei 20 minuti sono stati 20 minuti importanti, importanti perché hanno dato una grandissima indicazione che è quella che il gruppo è unito, è solido, che è entrato dalla panchina e aveva lo spirito e la voglia di mettere a posto una partita che si stava incalando molto male per noi, quindi è stato un segnale bellissimo, importantissimo. Io credo che in queste quattro partite si sia visto un Bologna, secondo me, buono in casa, e è diverso fuori perché abbiamo commesso troppi errori, abbiamo consegnato troppi palloni, abbiamo concesso troppe ripartenze e penso che in una competizione come questa se inizi ad essere poco qualitativo e inizi a consegnare palloni sanguinosi agli avversari sono troppo forti individualmente, hanno troppa qualità lì, poi viene fuori quello che non devi fare, quindi mi auguro che quei 20 minuti siano stati un'iniezione di fiducia importante per tutto il gruppo, secondo me lo è stato, abbiamo avuto due giorni per preparare questa partita, non tantissime, però ormai, come dicevo ai ragazzi, il ritmo è questo, si riposa la partita di campionato, si scarica il giorno dopo e gli altri due giorni servono per entrare davvero con la mentalità di una squadra che con pochi allenamenti, poche ore, poco tempo deve essere brava a preparare una partita, secondo me questa maturità la squadra ce l'ha, tutti pronti, tutti disponibili, perché verranno coinvolti tutti, è inevitabile, è quel segnale lì, è un segnale troppo importante per un allenatore. Ministro, buon pomeriggio, utilizzando una scala da un accento, al netto di quello che lei chiaramente ha già detto, ovvero che è un percorso appena iniziato, quanto è il Bologna di Vincenzo Italiano, quanto è il Bologna che lei si era immaginato quando ha accettato questa piazza, grazie. Ma io lo dico anche ai ragazzi, ci stiamo esprimendo a sprazzi, andiamo a folate, in momenti dove riusciamo a proporre tutto quello che cerchiamo di fare in allenamento, altri dove invece ancora vuol dire che dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, dobbiamo metterci più attenzione, più applicazione in determinati momenti della partita, perché ripeto, Bologna ha due facce, in casa e fuori, Bologna che qui non permette all'avversario in casa, intendo di ripartire, invece fuori troppi errori, quindi credo che dopo due mesi nessuna squadra, un allenatore vuole essere velocissimo nel entrare nella testa dei propri giocatori, nel cercare di dare un'identità forte, penso che due mesi sono pochi, poi abbiamo avuto tanti giocatori che non hanno fatto il ritiro per Olimpiadi, europei, sono arrivati in ritardo, qualche infortunio di troppo che non ci voleva, adesso invece pian pianino stiamo iniziando ad essere in tanti, gruppo squadra spesso è presente all'allenamento, ci vorrà del tempo per essere, non dico al 100%, come dici te, da una scala da 1 a 100, ma essere bravi e interpretare bene tutti i momenti della partita, ripeto, dobbiamo cercare di farlo come abbiamo fatto in queste due in casa, iniziando da domani, ma anche lontani dal Dallara, perché questa è una squadra che in passato ha dimostrato che non esiste casa e fuori, quando una squadra acquisisce una certa mentalità non fa differenza, dovunque vai contro chiunque devi proporre il tuo gioco, la tua identità, i tuoi principi e stiamo lavorando per cercare di fare quello. Ciao a tutti, quello che è successo l'anno scorso, il fatto di vivere quest'anno la Champions League è stata fatta da voi in campo, coinvolgo anche te Vincenzo, e accompagnati dalla gente fuori, cioè questa città è completamente impazzita per quello che è successo e per quello che succederà da domani in poi. Allora, qual è la vostra promessa alla gente e qual è la prima cosa che non deve mancare mai? Da domani in poi e non farete mancare mai. Ho capito cosa vuol vedere in due partite, cosa vuol vedere il pubblico di Bologna, impegno, sudore, sacrificio e siccome la gente è abituata bene vuole vedere giocare bene questa squadra e noi siamo obbligati anche in una competizione così difficile, con squadre così ben attrezzate, di mostrare tutto questo. Ma ripeto, lavoriamo tutti i giorni, lavoriamo veramente in maniera con grande abbregazione per cercare di ottenere questi aspetti qua, che sono aspetti che deve avere qualsiasi squadra di calcio, però siamo anche obbligati che qui a Bologna dobbiamo cercare di farlo in fretta perché è giusto far vedere e mostrare a questa gente questo tipo di calcio. Per il mister, ciao Vincenzo, lo Shakhtar l'hai studiato, l'hai visto, è una squadra molto giovane, media età, 23 anni, una delle più giovani della Champions, tra l'altro loro hanno vinto bene nell'ultimo fine settimana segnando i cinque gol e poi ti chiedo a livello personale com'è la tua vigilia di questa partita, considerando anche da dove sei partito, da dove è partita la tua carriera di allenatore, come la stai vivendo a livello personale? Grazie. Abbiamo visto sul Pullman già tornando da Como, ci siamo proiettati a questa partita e come ho sempre detto bisogna pensare ad un impegno alla volta, fischiato, tipice fischio finale a Como, subito proiettati è lo Shakhtar, lo Shakhtar è una squadra che è giovane come hai detto te, l'ultima partita ha segnato cinque gol, in quella prima tre, cioè è una squadra che ha una pressione offensiva davvero importante, alcuni nazionali di valore, se non gli metti pressione giocano un calcio di palleggio, di qualità, quindi dobbiamo cercare di essere quando non ce l'abbiamo aggressivi, stando attenti perché l'uno contro uno è troppo importante e poi quando ce l'abbiamo dobbiamo mettere in difficoltà, è una squadra che si rintana dentro la metà campo, aspetta il tuo errore, cosa che non dobbiamo commettere e dobbiamo fare, però secondo me per come l'abbiamo preparata possiamo mettere in difficoltà, quindi è partita aperta, partita che sta tanto a noi per come si svilupperà e mi auguro che si possa vedere quello che in due allenamenti siamo riusciti a preparare, ma sono convinto che lo faremo. Per quanto riguarda il mio percorso, dico la verità, mi aiuta tantissimo quello che ho vissuto negli ultimi due anni, perché sono stati momenti bellissimi, vivere l'Europa, girare per stadi caldi, squadre che in casa e fuori si trasformano, ambienti che non mollano mai, questo ci farà capire tantissimo e mi auguro che quello che ha lasciato a me, mi auguro che lascerà anche a tanti ragazzi che non hanno mai affrontato l'Europa, perché si accorgeranno di quale sono le mentalità che ci sono in giro in tutti i paesi. E questo è importante, devo dire la verità, sono emozionato perché anche io a sentire, già a pensare di sentire la musichetta della Champions, che ho sempre fatto dal divano, da casa, ho qualche partita vista allo stadio, sarò io lì in campo e sinceramente non vedo l'ora perché è un qualcosa di straordinario e per il resto davvero quei due anni mi hanno aiutato, mi hanno aiutato ad essere meno emozionato, meno ansioso, so a cosa stiamo andando incontro e quindi è quello che voglio far capire ai ragazzi e di questo in questi due giorni ne abbiamo parlato tanto. Sì, volevo dire questo, avete parlato dello Shakhtar, ti chiedo a te Vincenzo un pensiero su una squadra che è fatta di grandi professionisti, una squadra normale si preoccupa del campo come dei palloni, di tutto, qui c'è una squadra che ha dovuto anche abbandonare una partita per un allarme aereo, ecco cosa vuol dire? Forse è il bello dello sport mettere sullo stesso piano la realtà anche una squadra che sta giocando in un teatro di guerra, ecco questo mi sembra secondario. Ma anche questo aspetto questa mattina abbiamo toccato, sono ragazzi, è una società che sta vivendo davvero un qualcosa di spiegabile, tutti ci auguriamo che questo conflitto termini al più presto e ci mettiamo anche nei panni di queste società che sono costrette a girare l'Europa per affrontare una partita di calcio, a non stare vicino ai propri familiari, quindi conosciamo quale sono le difficoltà, su questo abbiamo grande rispetto per i nostri avversari e ripeto, tutti, tutto il mondo si augura che questo che sta accadendo nel loro paese cessi velocemente perché tutto il mondo se lo augura.